Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Sono già in Italia, sono sbarcati nella notte in Puglia i sette migranti per i quali il Tribunale di Roma ha sospeso il trattenimento in Albania, chiamando per la seconda volta in causa la Corte di Giustizia Europea. Durissima la reazione del Governo, intenzionata ad andare avanti, altrettanto duro l'attacco delle opposizioni che criticano uno spreco di fondi che potrebbero essere impiegati per altre emergenze. Sono già in Puglia i sette richiedenti asilo, tre egiziani e cinque bengalesi, arrivati venerdì scorso a bordo della nave militare Libra nel centro albanese di Giader. Il Tribunale di Roma ha nuovamente sospeso il giudizio sulla convalida del loro trattenimento, rimettendo tutto nelle mani della Corte di Giustizia Europea. È la seconda volta che accade in dieci giorni. I trattenimenti non sono stati convalidati in applicazione dei principi vincolanti per i giudici nazionali, enunciati dalla recente pronuncia della Corte Europea, spiegano i giudici. L'organismo europeo aveva stilato una lista dei Paesi considerati sicuri, diversa da quella del Governo italiano, che ritiene tali anche gli Stati, dove la sicurezza e la protezione non sono garantiti a tutti i cittadini e su tutto il territorio. E così i giudici della sezione migrazione, di fronte all'incertezza amministrativa scaturita da norme in contrasto, da una parte le sentenze della Corte di Giustizia Europea, dall'altra il decreto governativo sui Paesi sicuri, hanno scelto di rinviare in via pregiudiziale il quesito ai colleghi di Lussemburgo. Il Viminale ha già fatto sapere che si costituirà davanti alla Corte di Giustizia Europea per sostenere la validità del protocollo Italia-Albania. Prima però arriverà la Cassazione, quando il 4 dicembre prossimo dovrà pronunciarsi in merito la possibilità dei giudici di agire autonomamente, oppure di doversi attenere alla lista dei Paesi sicuri stilata dal Governo. La decisione alimenta lo scontro tra Governo e Toghe. Salvini parla di un'altra sentenza politica, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati di norma incompatibile con l'Europa, riferendosi alla normativa interna. E sul fronte politico sale anche la tensione in vista del voto regionale in Emilia-Romagna che si terrà domenica e lunedì prossimi. Ieri Giorgia Meloni ha risposto alle critiche sulla gestione dell'ordine pubblico durante la manifestazione di sabato a Bologna, nell'ambito della quale ci sono stati, lo sappiamo, diversi scontri ed è arrivata anche la risposta da parte del Ministro dell'Interno e del Prefetto di Bologna. Le camicie nere evocate dal sindaco di Bologna sono la solita carta di isperazione della sinistra che quando non ha una visione da raccontare mette sul tavolo l'avversario impresentabile. Giorgia Meloni cita quindi le divise blu dei poliziotti a cui esprime la totale solidarietà. La Premier, costretta a rimanere a Roma per il lungo incontro con i sindacati sulla manovra, si collega in video con Bologna dove gli alleati del centrodestra, Tagliani, Salvini e Lupi, si riuniscono per tirare la volata alla candidata Elena Ugolini in vista del voto di domenica e lunedì prossimo in Emilia-Romagna. Io, dice la Presidente del Consiglio, prendendosela con il sindaco di Bologna, di fido di chi in privato mi chiede cortesemente collaborazione e invece a favore di telecamera mi accusa di essere una picchiatrice fascista. Pronta la replica del primo cittadino bolognese. La Presidente del Consiglio non scambi le richieste di collaborazione per l'alluvione con l'obbedienza al capo, dice Matteo Lepore. Sulla manifestazione dei Patrioti oggi interviene il prefetto di Bologna, Attilio Visconti. C'è stata una mediazione e sono stati ridotti per corso e durata. Il sindaco era al corrente di tutto. Spiace, prosegue il prefetto, che abbia detto che il comitato aveva disposto un divieto agli organizzatori e il Viminale ciò abbia fatto cancellare. Anche il ministro dell'interno, Piantedosi, si scaglia contro il sindaco di Bologna e lo accusa di irresponsabilità. CGL e Will confermano lo sciopero generale che è stato indetto per il 29 di novembre dopo l'incontro di ieri con il governo a Palazzo Chigi durato quasi sei ore sulla manovra. Restano le distanze tra parti sociale ed esecutivo, in particolare su sanità, pensioni e lavoro precario. Giorgia Meloni si è impegnata per un nuovo intervento sull'IRPEF in base alle risorse che avremo a disposizione, ha detto, e che arriveranno anche alla chiusura del concordato preventivo. Oggi in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto per la proroga dei termini di questa procedura per evitare il fallimento delle imprese in stato di crisi. Sono 4.500 gli emendamenti presentati alla legge di bilancio in Commissione alla Camera, più di mille dei gruppi di maggioranza. Andiamo adesso negli Stati Uniti. Il Cremlino ha smentito quella telefonata tra Putin e Trump che invece viene confermata da diverse fonti. Intanto il presidente eletto degli Stati Uniti mette a punto la squadra di governo e si avvia anche ad avere la maggioranza del Congresso. Rubio segretario di Stato, Wals consigliere per la sicurezza nazionale, Cash Patel, l'FBI o alla CIA, Stephen Miller, vice capo di gabinetto Zeldin all'ambiente. Secondo indiscrezioni di stampa, sono questi i nomi delle ultime ore che stanno andando a riempire le caselle della squadra. Una lista di fedelissimi che dovranno essere al suo fianco nei prossimi 4 anni. Sicurati i nomi pesanti come Pompeo e Alley, il presidente eletto non sta perdendo tempo in vista del suo insediamento programmato per il 20 gennaio. Domani la Casa Bianca gli aprirà le porte e a riceverlo ci sarà Joe Biden. Il presidente in carica gli ha garantito una transizione pacifica. Apparentemente un ramoscello d'olivo tra democratici e repubblicani. Ma Trump, che finora sembra essere riuscito a superare indenne inchieste e scandali, sta per incassare il pieno controllo di quel congresso che i suoi sostenitori avevano preso d'assalto. Un colpo che, se messo a segno, gli potrebbe garantire una completa libertà di manovra. Intanto ci sono i dossier internazionali. Quasi certamente la sua amministrazione uscirà dall'accordo di Parigi sul clima. Peraltro neanche l'amministrazione Biden partecipa a quello in corso a Baku per recuperare la sua credibilità politica. Trump punta a chiudere le due guerre in corso, Ucraina e Medio Oriente. Il Cremlino ha smentito la telefonata con Vladimir Putin. Smentiti anche i suoi giudizi su Zelensky. Mentre su Israele nessuno finora ha smentito che abbia parlato tre volte con Netanyahu. Andiamo adesso in Medio Oriente dove l'emittente televisiva Al Jazeera afferma che almeno 11 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite questa notte in un attacco aereo israeliano vicino a Caniunis nel sud della striscia di Gaza. Precedentemente sempre Al Jazeera aveva dato notizia di altri 5 morti per raid israeliani sulla città di Gaza e su quelle di Beit Anun nel nord dell'enclave palestinese. Il nuovo ministro della difesa israeliano Kats intanto avverte l'Iran. Teheran è più esposta che mai agli attacchi contro i suoi impianti nucleari. Abbiamo l'opportunità di contrastare ed eliminare la minaccia esistenziale allo Stato di Israele. E dopo un lungo tira e molla torniamo in Italia. Nella notte è arrivato il tanto sospirato via libera all'accordo tra Ita e Lufthansa. I termini dell'intesa sono confermati. Il MEF cederà il 41% di Ita e tedeschi con un aumento di capitale da 325 milioni di euro che sarà a loro riservato. I patti parasociali daranno comunque il controllo della compagnia al compratore germanico anche se il Ministero dell'Economia conserverà la maggioranza delle azioni. Ora si aspetta il sì della Commissione europea che potrebbe arrivare entro la fine del mese. Adesso per la cronaca parliamo del processo a Impagnatiello accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano quando era incinta di 7 mesi. Per lui chiesto il massimo della pena. La Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo e l'isolamento diurno per 18 mesi per Alessandro Impagnatiello. In aula c'è tutta la famiglia di Giulia Tramontano sui vestiti le spillette col volto della 29enne incinta al settimo mese ammazzata con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 a Senago dal compagno da cui aspettava il figlio l'APM Alessia Menegazzo lo chiama giocatore di scacchi così si era definito anche lui davanti ai periti che ne hanno certificato la capacità di intendere e volere. L'ultima definitiva rossa per uccidere Giulia e sua baffina l'omicidio del 27 maggio è il frutto di una decisione lucida non imprevdita non è l'edito di un ratus Un agguato lo definisce Menegazzo un delitto aggravato da cruteltà fu dirimotivi e dalla premeditazione per le PM secondo le quali Impagnatiello aveva deciso di uccidere Giulia già a dicembre del 2022 somministrandole veleno per topi considerava la gravidanza un ostacolo alla sua relazione parallela con una collega Giulia firma la sua condanna a morte quando dice a Impagnatiello di essere incinta dice la PM Le legali di Impagnatiello hanno chiesto invece di escludere le aggravanti della crudeltà e la premeditazione ha fatto errori grossolani non è un fine stratega dicono nella ringa Questa condotta di questo tipo non è quella di uno stratega è quella di un uomo fragile di un uomo misero che ha trovato una maniera aberrante per togliersi da una situazione che per lui era insopportabile La madre si commuove quando la PM Menegazzo parla di Giulia alla fine della requisitoriale si avvicina per ringraziarla sentenza il 25 novembre Per lo sport in primo piano il tennis Yannick Sinner torna questa sera in campo nelle ATP Finals di Torino incontrerà l'americano Fritz Non c'è posto più bello per ricevere questo premio queste le parole di Yannick Sinner dopo aver alzato a Torino davanti al suo pubblico il trofeo che lo decreta è leader del ranking mondiale alla fine del 2024 a premiarlo Boris Becker uno che di record se ne intende Sinner quest'anno ha dominato la stagione ha ottenuto 66 vittorie e sole 6 sconfitte troppo più forte e troppo più continuo dei suoi avversari nonostante nella sua testa ci sia ancora la vicenda doping in attesa della pronuncia del TAS che avverrà nei primi mesi del 2025 e se alle ATP Finals l'italiano nel suo match d'esordio non ha avuto problemi contro l'australiano Alex De Minor non si può dire la stessa cosa del suo grande rivale Carlo Salcaraz che a sorpresa è uscito sconfitto nel suo primo match contro Kasper Rud nel punteggio di 6-1-7-5 lo spagnolo a tratti riconoscibili in conferenza stampa dopo l'incontro si è lamentato con un problema allo stomaco che lo avrebbe condizionato si conferma in ottima forma invece il tedesco Alexander Zverev che in un match molto equilibrato ha avuto la meglio sul russo Andrei Lublev al numero 2 del mondo sono bastati due break il primo nel settimo gioco del primo set l'altro quello decisivo sul 4 pari del secondo parziale grande partenza nel torneo di doppio anche per Bolelli Vavasori che in poco meno di un'ora hanno travolto gli ex numero 1 del mondo Bopan Naibden il punteggio non lascia dubbi 6-2-6-3 per la coppia italiana Ed è tutto per questa edizione vi lascio con le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni e Coffee Break condotto da Andrea Pancani grazie per averci seguito buona giornata grazie per averci seguito